Avevano messo in vendita sui propri profili social tre anfore antichissime trovate in mare, risalenti al II secolo a.C., ovviamente senza averne nessun diritto. Sono state scoperte e denunciate dalla Guardia di Finanza due donne via regine, accusate adesso di ricettazione per violazione al codice dei beni culturali e del paesaggio. Si tratta di tre anfore di tipo greco-italico, tardo-dresser, d'ingente valore storico, datate 200 a.C. Una delle due donne aveva postato su Facebook l'annuncio della vendita dei tre pezzi, con le foto relative al prezzo di diverse migliaia di euro. Per i finanziari del gruppo di via regio non è stato difficile risalire la signora. Una volta identificata, è stata verificata la sua situazione patrimoniale, reddituale e appurato che i reperti venivano detenuti senza protezione né cautela alcuna. E sul mandato della procura di Lucca, le fiamme gialle hanno perquisito la donna. Le anfore sono state alla fine rinvenute, nascoste nell'appartamento di una seconda signora, sempre di via regio. I preziosi reperti sono stati messi a disposizione della sovrintendenza delle belle arti di Lucca. Si sono giustificate affermando che le anfore sono state ritrovate in mare e non sapendo cosa farne hanno provato a metterle in vendita. Grazie alla perizia della sovrintendenza è stato possibile datare con certezza le anfore e collocarle quindi in un periodo storico. Ora saranno sicuramente assegnate in giudiziale custodia alla sovrintendenza, probabilmente finiranno in un museo. Il caso scoperto dalla finanza è emerso nell'azione di contrasto ai fenomeni illeciti commessi sul web e sulle piattaforme di vendita online. Il ritrovamento di beni di questo genere, anche se avviene fortuitamente, deve essere sempre comunicato alla sovrintendenza o al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza. Un appello anche alla prudenza perché si rischia anche a comprare. È sempre importante accertarsi dell'origine lecita dei prodotti che vengono acquistati.